Biblioteca Giuseppe Bolino. Si chiamerà così da oggi l'antica sala secentesca che ospita il patrimonio librario del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Circa 10.000 volumi che spaziano dall'abruzzesistica alla giurisprudenza sino alla storia dell'arte. L'intitolazione odierna si è svolta alla presenza dei familiari di Giuseppe Bolino, del sindaco di Sulmona, Maria Casini e delle maggiori autorità del capoluogo. Una cerimonia voluta dall'ufficio di presidenza su proposta del presidente Giuseppe Di Pangrazio e della deputazione di storia patria dell'associazione regionalista abruzzese. È stato un esempio di riferimento per quanto riguarda la mia attività dei cinque anni trascorsi. Era giusto che si sancisse questo gemellaggio tra la città di Sulmona, la città dell'Aquila, due città cariche di arte, di architettura, di vivacità culturali attraverso l'intitolazione di questa bellissima biblioteca a Giuseppe Bolino. Bolino fu un uomo delle istituzioni, un regionalista convinto e membro della deputazione di storia patria. È stato una persona illuminata, un uomo di grande cultura, figlio, mi piace di ricordarlo, di un tipografo e aveva una sensibilità particolare per la storia del libro. Veniva alla biblioteca provinciale che io ho diretto in visita a vedere i testi antichi, individuava le caratteristiche, dei caratteri usati dalle tipografie del 4-500. Insomma, era una persona che ha aggiunto a questo un ruolo politico di primissimo piano. Nato a Sulmona il 13 gennaio 1926 rivestì diversi incarichi di prestigio regionale. Dal 70 al 75 è stato assessore alla sanità, mentre fu assessore al lavoro dal 75 al 78. Proprio nel 1978 venne eletto, primo sulmonese nella storia del regionalismo abruzzese, presidente del Consiglio regionale. È una giornata importante, è un tributo doveroso e accolto da tutta la cittadinanza con grande entusiasmo. Oggi io sono qui appunto per testimoniale l'orgoglio della città di Sulmona nell'aver ottenuto questo grande riconoscimento. Una giornata importante sia per la città di Sulmona che per i familiari di Bolino, che erano presenti ed hanno ricordato commossi alcuni stralci delle lettere che il loro padre inviava nel 1943 dal carcere di Regina Cieli i propri familiari. Una giornata sicuramente importante, come ha detto lei, molto emozionante, grande soddisfazione mia e di tutta la famiglia per questo splendido ricordo che sicuramente sarà sede, punto di ritrovo di tanti giovani, immerso peraltro in un ambiente che si adatta alla presenza dei giovani e che quindi è la maniera migliore per ricordare la figura di mio padre, un uomo sicuramente politico ma fondamentalmente di grande curiosità culturale.